Le tensioni accumulate tra la squadra della Fiorentina, società e tifosi, nelle ultime settimane di campionato potrebbero essere all'origine dei disordini avvenuti lunedì notte a Malga Peniola di Moina, dove i giocatori in ritiro in Val di Fassa si sono ritrovati. Il locale sarebbe stato danneggiato e la società Viola avrebbe risarcito i danni, evitando denunce. Sul ritiro della Fiorentina, tra divieti e passioni, vediamo il servizio di Luca Bindi. Si fanno le vacanze per la Fiorentina? Sempre. È una fede. Tre giorni di vacanza in Trentino, ma per venire a vedere la Fiorentina. Iniziamo dalla passione dei tifosi, poi ci torneremo nuovamente, perché ora vi parliamo dell'assalto al Fortino Fiorentina, che non è crollato. Noi abbiamo tentato, ma la società Viola ha respinto ogni nostra richiesta. Possiamo intervistare l'allenatore Montella? Secco no. Possiamo avere Jojo Jovetic, giocatore principe, al centro di varie polemiche per un suo possibile passaggio alla Juventus? Altra risposta negativa. Poi la squadra si è allenata. Prima in palestra, possiamo riprenderla? Anche qui disco rosso. Infine è scesa sul campo. Possiamo entrare sul terreno di gioco con videocamera? Assolutamente senso vietato. Unica possibilità salire su un'alta tribunetta per le riprese. Allora come fare per chiudere dignitosamente il servizio? Tornare ai primi secondi, quando abbiamo parlato di passione, quella dei tifosi, giunti da ogni parte d'Italia. Loro non si sono negati a nessuna nostra domanda. Siete venuti da Foggia a seguire la Fiorentina? Anche perché mio padre è toscano. Vengo da Roma, spesso veniamo a tutti i ritiri. Viola Club Turino per questa squadra? Certo, certo. Noi siamo sempre vicini alla squadra, comunque vada. Io praticamente è del 1974 che sono tifoso della Fiorentina. Io sono della Spezia, 5 ter, vicino a Monterosso, e grazie a mio nonno sono tifosa da sempre. Poi anche tanti tifosi da Firenze con animali al seguito. Grazie. 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 Grazie.